Oh, c'è nessuno! Hai visto che palmi? Sembra Palma di Mallorca! Oh, mi scordavo le noccioline, quelle per i scimmie! Rimani in zona, non ti allontanai che qui c'è saperdi! Signora! Che cosa vuoi? Che mi dai due pacchetti di noccioline, quelle per le scimmie? Eccole, sono tutte uguali! Uguali? E che uomini scimmie sono uguali? Dammi mille lire! Ammazza mille lire, due mesi fa stavano quattrocento lire al pacchetto! Ah, ma ho preso da un altro! C'è quell'altro? No, ce sono solo io qua! Ecco fatto, andiamo! Oh, ma dove andate? Vieni un po' qua a te! Ma dove volete andare senza pagare? Oh, io prima ho bussato, ho bussato pure tanto, non c'era nessuno! Ma queste dan due? Si, uno e due! Senti, lei però è straniera, paga uguali? Perché è portoghese? No, è spagnola! Forza, non fa tanto lo spiritoso, su! Oh, spiritoso di che? Forza, son mille lire! Come le noccioline! Dai eh! Tiè, andiamo a che insieme sotto qua! Buono! De nada, de nada, de nada!